come amici noi siamo i due bomber al freestyle bomberissimi abbiamo portato la 30 secondi challenge la 15 secondi challenge la 10 secondi challenge e oggi è arrivato il momento di fare la 5 secondi allora ragazzi abbiamo praticamente questa ruota dobbiamo praticamente cliccare nel momento stesso che leggeremo la sfida partiamo in cinque secondi tempo per fare la sfida 5 per i bombers comunque scegliamo un po e capiamo chi andrà a vincere questa challenge l'ultima se ne chia fate il zappino con la speed una su 15 mila e questa sarà la seconda vai partire con la sfida parti con la sfida video maker vai parti da che parti vai vediamo un po primo giro di ruota e via abbiamo vincitore fare 10 palleggi in 5 secondi ma ragazzi non è così impossibile con due piedi però uno vai eh vabbè dai ragazzi ma erano già venti ragazzi si vabbè ma dai con due piedi quindi 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 primo punto per dig bravo dig bravo dig bravo hai 5 secondi di tempo per prendere la crossbar con il supertene da ora no 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 da ora sto c***o non c'è scritto da ora bomber ci siamo a 5 secondi di tempo da per prendere la crossbar con il supertene tra 3 2 1 piano non ci credo non ci credo ma è che sono un indovino guardate hai preso l'altra vesa sono stoppato non è che è riparte 10 effettivamente però per due millesimi di secondo può essere anche il tuo dito cioè dai ragazzi di due millesimi sono veramente pochi pochissimi cioè 5 alla fine peggio 1 a 1 tra molto rubato molto rubato non mi toccare non mi toccare non mi tocca correre fino alla porta posta bocciato bocciato il mondiale del 2010 spagna spagna raga cioè c'è stato ci sono stati un decennio dove la spagna vinceva tutto ed era quel periodo 2 secondi di tempo per calciare senza scarpa partendo da ora calciare c'era scritto calciare non c'era scritto dove si beh in effetti devo dire c'è ragione ragazzi meno male che avevo le scarpe senza lacci perché quella con il laccio cavolo che la togliamo no hai 5 secondi di tempo per dire che ha vinto l'ultima Champions League ma ci sarei ognuno di due siti ragazzi c'era un bug mentale stavo per dire il Real Madrid un po' mi sono ricordato che l'Inter ha perso la finale e ho fatto il collegamento contro che ha perso l'Inter Manchester City toccare attraversa con la mano mia 3 a 3 la cosa più importante è 3 a 3 sfidare l'avversario a un duello a scelta 5 secondi lui a chi la prende prima 1 via 2 via 2 via e go 4 a 3 per sto monumento tira di piede debole ma che cosa? ma che cazzo ne so che io ho il videomeca aspetta tira di piede debole cosa significa? devi tirare in porta col piede debole in 5 secondi 3 a 2 a 1 via va perché scalza? eh hai fatto pure il ritardo ma hai scalzo? ma non ho capito hai scalzo? no no sono di piede debole ma che scalzo? Zapp quindi 4 pari per fare gli spazi di tetto 3 2 1 via ciao Zapp che fa qualcuno ma fa qualcuno ma gli manda sempre lì beh ragazzi però posso dire una cosa 5 palleggi di testa? cioè devi farli con la palla già in mano eh io? se ti andrà in mano a prendere e cazzo mettiamo 20 vai bombers deve fare 10 palleggi di testa dal batter 3 2 1 via non let me 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 campione è tutto campione vamo si ragazzi challenge assurda di 5 secondi ma se volete vedere la challenge dei 3 secondi mi raccomando scrivetelo qua sotto nei commenti qua sotto ti iscrivete al nostro canale e da te adesso altri due video e se vuoi essere un bomber in 5 secondi devi iscriverti sul canale dei 2 bomber non let me